intanto grazie a tutti voi perché abbiamo veramente dei mazzetti di segnalazioni su altre auto abbandonate questo dimostra la vostra grande sensibilità e senso civico nel segnalarci un qualcosa che non sarà certamente tra gli episodi più gravi che possano capitare in una città però vedere queste auto lasciate abbandonate semidistrutte o bruciate insomma lascia anche un senso così di disagio oltre che di poco decoro urbano e allora cominciamo dalla prima segnalazione siamo in una traversa di via fiorentina proprio davanti al piazzale del mcdonald per intenderci qui un telespettatore ci segnala la presenza di due auto abbandonate una è questa qui che diciamo non è un caso poi tra i più emblematici però vediamo le ruote sgonfie vediamo insomma che si tratta di un'auto certamente lasciata qui da diverso tempo ma in questa strada c'è un altro caso diciamo invece decisamente decisamente più evidente e questo veramente rientriamo poi più nella casistica è un'auto che tra poco vedrete si tratta di un'auto che non ha nemmeno la targa integra vedete che è una macchina che ha la targa lasciata così ci sono solo le prime tre cifre sembra un gioco enigmistico il completare questa targa e vediamo che qui vedete la situazione è decisamente un pezzo di targa poi lo vediamo che è rimasto lì attaccato questo insomma è decisamente più evidente come vi dicevo anche questa è un'auto che pare che nessuno riesca a spostare a diciamo mettere dove dovrebbe stare o comunque a portare al macero vedete che anche questa insomma è un bel esempio di auto abbandonata qui insomma siamo a due passi da via fiorentina e qui vediamo che è un episodio che ci dice che quest'auto è qui da diverso tempo vediamo dei sacchetti degli oggetti insomma è una situazione anche qui come tante altre che abbiamo visto vedete che insomma dentro c'è un po di tutto fogli residui di vario materiale e quindi diciamo che è uno di quei casi che si potrebbero risolvere in poco in poco tempo ma abbiamo altre segnalazioni seguiteci ci siamo spostati a pratacci siamo in prossimità di via pastor via matteucci qui sopra passa il raccordo autostradale e anche qui in questo piazzale le macchine abbandonate non mancano furgoni come vediamo in questo caso qui praticamente c'è rimasto ben poco è stato portato via tutto quello che poteva essere poteva essere utile e poi guardate anche che non c'è rimasto praticamente neanche neanche la porta eccolo qua vedete qui tutto tutto saltato qui partiti gli specchietti vetri infranti quest'altra auto che stiamo per vedere questo è sempre il furgone vedete c'è rimasto veramente niente qui invece abbiamo un altro caso vetri che si capisce malgrado stia nevicando che sono infranti portato via anche qui tutto quello che c'era da portare residui di oggetti insomma queste queste auto questo furgone non si capisce perché debbano stare qui anche perché possono essere anche pericolosi perché vi faccio vedere che cosa può accadere a un'auto lasciata abbandonata è un'auto lasciata abbandonata può succedere questo cioè può essere completamente incendiata bruciata incenerita e diventare poi una sorta di discarico qui c'è pezzo di lavatrice dentro guardate che cosa c'è siamo sempre qui a pratacci qui sopra passa il raccordo autostradale guardate un po' se è possibile che noi dobbiamo assistere a scene di questo tipo quindi il pericolo che poi queste auto vengano incendiate vengano lasciate in queste condizioni e sapete che insomma poi quando ci sono benzina c'è gasolio insomma può accadere veramente qualcosa di grave oltre che rappresentare degrado di per sé lasciare delle auto nelle condizioni che abbiamo visto sono anche pericolose lasciate così incustodite perché fanno questa fine